La domanda è il ragazzotto di Ekron che è tornato a casa in estate, ha detto frasi di circostanza, non so quanto di circostanza e quanto ci credesse sul punto, cioè da giocatore secondo me ormai maturo, campione maturo eccetera eccetera, siamo una squadra nuova, ci dobbiamo un attimo trovare, squadra giovane, non sono qua per vincere subito. Poi a due mesi dall'inizio della regular season sono stati ceduti tutti gli assets positivi possibili rimasti per non dico strapagare ma quasi giocatori che danno l'idea di no, vogliamo provare a vincere subito. Erano più frasi di circostanza del necessario? È un tentativo di mettere una pezza in una situazione peggio di quello che si aspettavano anche nei peggiori incubi per non fare la fine dei Lakers di due o tre stagioni fa? La tua opinione? Anche io sono sconcertato devo dire, sono sconcertato perché al di là frasi di circostanza direi che ne sentiamo tutti tantissime, più che è interamente possibile, anzi diciamo la verità, il 98% di quello che sentiamo è di circostanza. Ma non mi sembra questo il punto principale. Il punto principale è quello che dicevi tu, l'assessment, la valutazione che ha fatto Lebron James arrivando. Secondo me dovrebbe essere stata quella di, al di là delle frasi di circostanze, ma qui mica siamo pronti. Poi può anche essere che ci riesca quello che a Bologna chiamano sghetto, però non siamo mica pronti. Debo cominciare a pensare che evidentemente almeno io e te, se capisco giusto, la vediamo diversa da lui. Dico da lui perché mi sembra di capire che il suo peso nelle scelte sia piuttosto forte e come potrebbe essere diversamente viste le circostanze della partenza, le circostanze del ritorno e quel piccolissimo dettaglio che se vuole esce quest'anno e comunque tra due anni finisce il contratto. Allora, a questo punto, come battuta così, direi sul giocatore non ho il minimo dubbio. Come general manager, ecco, qualche dubbietto comincia a venirmi. Perché siccome anche io credo che la squadra non sia pronta perché Irving deve fare un cammino, Irving ha un enorme potenziale, deve fare un cammino comunque abbastanza lungo e chi può saperlo meglio di uno che è il più forte di tutti, ma comunque per arrivare a un certo punto ci ha messo degli anni. Allora, Irving deve fare quel cammino, se deve fare quel cammino non è love in noleggio la soluzione che immediatamente ti fa vincere. Allora, love in noleggio o love a lungo termine, qui io mi tengo il giudizio perché tre mesi di love sono pochi, però love a me non dà l'idea di un giocatore di intangibles, ecco, mettiamola così, di un giocatore eccellente per intangibles. E dove sono sti intangibles lì? E l'altra cosa è, indipendentemente dalla conoscenza e dalla stima per David Blatt, giudicare David Blatt, non dopo tre mesi, ma mi sembra di capire dopo tre settimane, mi sembra un po' tantino. Siccome non è la prima volta, quello che mi stride un po' è, ieri ho fatto la partita di Miami, quindi se tu vai un po' a leggere tra le righe di quello che dicono a Miami, praticamente tu continui a leggere tra le righe, ma adesso lo scoprite che è così. Io ho paura che lui abbia un peso per la sua presenza, volente o nolente, tale dentro l'organizzazione che o tu hai a un certo punto il Riley che mette una linea nella sabbia, oppure rischi di diventare pericoloso per lui. Perché ripeto, io sul giocatore non ho il minimo dubbio, ma a questo gioco non vince da solo nessuno, vedi quell'altro col 23. E quindi secondo me sarà meglio che si schiarisca le idee in fretta, oppure eventualmente lasci fare agli altri e dia il tempo agli altri di provare a costruire. Perché se continui, l'ultima cosa che vuoi fare nell'NBA secondo me è sparare così, in una situazione in cui tutti dicono la cosa più importante è avere delle scelte, questi hanno dato via 5 scelte passate e 4 scelte future, che fanno 9. Sì, tu puoi avere tutti i soldi del mondo, ma poi pagare la tassa di russo non è solo una questione di spendere dei soldi, è una questione anche di avere meno flessibilità operativa. Insomma, non lo so, secondo me c'è qualcosa che tocca proprio a livello di sistema, però aspettiamo, perché ho anche l'impressione contemporaneamente che abbiamo visto uno che non stava bene, altrimenti non si sarebbe mai fermato due settimane adesso. Sì, c'è due prime scelte per Mozgovine scadenza, 1-2-3-4-5 sul campo, bene. Mai nella vita, mai nella vita. Io però dobbiamo dare il tempo a questi qui di vedere come sono con il miglior Lebron, poi ne riparliamo. Vice allenatore, vice GM magari aspettiamo, insomma, meglio sul campo Lebron. Sì, per adesso meglio giocatore, questo di certo. Grazie.